In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae ora Pronobis Inizia il primo episodio della storia sacra, Dio crea l'universo. La storia sacra narrata nella Bibbia parla dei fatti più importanti avvenuti prima e dopo la nascita di Gesù. Milioni e milioni di anni fa esisteva soltanto Dio. Egli era perfettamente felice e non aveva bisogno di nessuno. Ma perché infinitamente buono, volle comunicare i Suoi doni ai numerevoli altri esseri. Anzitutto Egli ha creato questo meraviglioso mondo in cui viviamo. In principio la terra era una grande massa informe e le tenebre coprivano l'abisso. Ma Dio era là, a ordinare e abbellire ogni cosa. Con la Sua parola onipotente, Egli creò da nulla una dopo l'altra tutte le sue creature. Non le fece in un solo istante, ma attraverso periodi, detti anche giorni. Nel primo giorno il Dio creò la luce. Nel secondo giorno creò il firmamento e lo chiamò cielo. Nel terzo giorno separò le acque dalla terra e comandò a questa di produrre erbe, fiori e piante fruttifere. Nel quarto giorno creò il sole, la luna, le stelle. Nel quinto giorno creò i pesci e gli uccelli. Nel sesto giorno tutti gli altri animali. Adorna ad ogni bellezza, la terra sembrava una magnifica reggia, in attesa del suo re. Il re era l'uomo. Il Dio lo creò per ultimo, bello, intelligente, capace di ammerare il creato, e soprattutto di conoscere e amare il suo Dio. Nel settimo giorno Dio si riposò, e quel giorno fu da Lui benedetto e santificato. Sialodato Gesù Cristo In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Santi. Amen.